Sono arrivate le nuove carte di Brawl Stars e mi hanno mandato anche l'album In questo video aprirò un box intero di carte di Brawl Stars Riuscirò a completare tutta la collezione o dovrò aprire anche l'altro box? Mi raccomando, spaccate questo video di mi piace perché io comprerò tantissimi altri box di carte di Brawl Stars Iniziamo! Ok raga, sono super contento perché finalmente è arrivato anche a me L'album, ecco qua E qua dentro si è anche una bustina Guardate che carina Sono le figurine di Brawl Stars serie 2 Io devo ancora completare la serie 1 ma va bene Quindi queste sono le bustine Questa la tengo perché faccio la collezione anche delle bustine chiuse E fatemi spazio un attimo Questo è l'album, veramente bellissimo E ovviamente qua ci sono tutte le carte numerate E c'è l'album veramente epico Wow raga Wow, wow, wow Ne aprirò solo uno perché altrimenti il video dura 7 ore Perché dentro ogni box ci sono 20 bustine con 5 carte all'interno Mi raccomando, fatemi sapere se anche voi avete già aperto queste fantastiche carte di Brawl Stars Le trovate in tutte le edicole e direi di cominciare Non dimenticate di spaccare sto video di mi piace raga E poi di iscrivervi Dobbiamo arrivare a 500.000 iscritti, ok? Guardate quante, guardate quante Guardate quante! Mamma mia, ma di che cosa stiamo parlando? Bellissimo Il pacchettino è veramente bello Con tutti i brawler Veramente un applauso Vamos! Iniziamo subito raga Iniziamo subito Chissà come sarà il trick Dove sarà la carta più incredibile Ed eccole qua Ok, allora Mettiamole un pochettino dritte Sempre storte Mettetele dritte ste carte! Allora Gelindo Salute Attacco e super Vento Forza 9 Addirittura Wow, bellissimo Ok Corsair Colt Fantastico Squeak Sorvegliante E abbiamo Robo Dan Mike Artigliere addirittura con le skin raga C'è, con le skin E sotto abbiamo Zappo! Super brilluccicoso Bellissimo Uno su Aspetta Quanto è scritto? 123 su 162 Sono 162 carte Bellissimo Nasconde Sottoterra Le proprie trappole Fatemi vedere un attimo Allora ci sono le standard Le card action E le card special metal Quindi raga Boh Dovrebbe essere la special metal Che sono 58 Le card azione sono 22 Quindi sono più difficili da trovare Quindi La prima è Boh Continuiamo perché sono veramente Tantissimi Questi pacchettini Sono una marea raga Quindi devo muovermi Altrimenti finisco domattina Vediamo un po' Chi troviamo Dovete mettere Allora vi chiedo un favore Mettete dritte Ste carte Per favore Perché altrimenti Ogni volta a girarle Il colonnello Rufus Poi No vabbè Abbiamo Bull In versione B800 Poi abbiamo Surge Poi abbiamo Penny E sotto Sandy Special Bellissima Molto bella Con sta grafica Cartunesca Sembra quasi Pongo Sembra quasi Pongo Raga È veramente bella O io comunque con due box interi Io esigo di completare la collezione raga Due box interi giganti Che l'altro lo apriamo in un altro video Ma pretendo di Wow 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 Queste sono le action Le azione Queste secondo me sono le action Bellissimo Con il primo Spike Colt Eeeh Poso Ok Bella 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 raga Bella Abbiamo Zessi Io però voglio vedere le skin belle Nita Abbiamo Oh Shelly strega Bella l'ho chiamata È stata una special Penny Penny Che sembra di Pongo Penny Pongo Bella molto bella È la 120 Su 162 Io sono convinto che Secondo me con due box così Riesco a completarla Fino alla 150 L'ho detto Oh un'altra azione raga Un'altra azione È il primo che ti ripugni È il primo che ti ripugni Poi c'è Pam Poi abbiamo Ash Poi abbiamo Rico Ma come Rico No Rico No Rico No Rico Stecca Stecca si chiama E Gene Gene Eugenio Vabbè Va bene Comun vi scusiamo Gene Il genio Ok Gene Va bene Ok Dopo Rico Si è mischiato qualcosa Forse con lo spagnolo Allora Vediamo un pochettino Mettiamo le dritte Come sempre Comunque devo dire Mi piacciono tanto Però sarà che ci sono affezionato Ma quelli di stumble guys Sono le migliori Secondo me Wow Attenzione Questo è Leon Leon e Lupo Mannaro Bello Leon e Lupo Mannaro Edgar Poi abbiamo RT Rosa E sotto Jackie Veramente Veramente Belle raga Bellissime Però io voglio un po' più di carte azione Voglio un po' più di carte azione E un po' più di skin Perché quelle sono belle Cioè quando si sono le skin Sono bellissime Perché alcune Non sapevo neanche che esistessero Ok quindi Un altro Bo Normale Leon normale Oh ghost squeak Bello questo Questo mi piacerebbe Averlo nel gioco Janette Non so chi sia Tiratrice E sotto Buzz Avete bisogno Di un salvataggio C'è lui Comunque raga Già tante carte abbiamo E di doppio E mi sa che non ne ho viste Continuiamo raga Perché qua è pieno Zeppo di pack Pieno zeppo di pacchettini Vediamo un po' Stu Fatemele mettere dritte Perché io non sopporto Che sono alla rovescio Mamma mia Allora Stu Sicario Poi abbiamo Megabow Mecca Yes Bellissimo Questo ce l'avevo Nel primo profilo Beryl Ber Così si Ma si scrive veramente Barley O Beryl Ma poi è bombardino Non è Beryl Vabbè lasciamo perdere Wow Stecca Bam 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 Che fa rimbalzare Tutti i suoi colpi Che fischietta Bellissimo E sotto Mortis Pongo Mortis di Pongo Bellissimo Bello 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 Andiamo avanti raga Sono tantissimi Pacchettini E se ancora non l'avete fatto Un bel mi piace Perché se raggiungeremo i 3000 mi piace Apriremo anche questo L'altro box Di carte di Brawl Stars E sicuramente con quello finiremo quasi la collezione Ne sono certo Bonnie Non la conosco Bonnie Poi Eugenio Pirata Eugenio Pirata Eugenio Pirata fa riderissimo No vabbè raga ma c'è scritto anche quanto costa Ce l'ho visto adesso C'è sta skin Costa 79 C'è le altre Le altre fa vedere 49 basta No è possibile dai Come fa a costare così poco Scusa Squeak 79 Ma così poco costano Pensavo di più Vabbè Eugenio Pirata Poi abbiamo Eugenio Normale Wheel Home E Grip Molto bella Tutte brillantinose poi Fantastico raga Non ne sto trovando doppie Neanche una Sono felicissimo Oh bellissima Jackie Cartazione dovrebbe essere Non c'è scritto E' il primo Poi chi abbiamo qua Stu Riders Senza testa Bellissimo Bello bello raga Poi qua abbiamo Max Che corre velocissimo E sotto abbiamo Jackie Ah doppia mi sa Raga già doppia Ce l'avevo già Mi sembrava di sì E invece non è doppia Mi son confuso Meglio va benissimo Un'altra carta azione No vabbè Spike inseguito Da Leon Bellissima Super divertente Fatemelo mettere dritte Perché mamma mia Che nervoso Che nervoso raga Bella questa Ok Un'altra azione Di Sandy che dorme Spike che È pronto a colpirla A colpirlo Ancora Un'altra raga Un'altra Ma cosa Ma cosa Liù Bella E le ho invertite Lola Top raga Non ne stiamo trovando doppie Per niente Tanta roba Collestione le tutte Nel card collection book ufficiale Raga E io ce l'ho Io ce l'ho Quell'ufficiale E non me lo toglie nessuno Non me lo può togliere nessuno Quello Oh Non posso aprire un pacchettino Dove sono tutte dritte No eh Tara Corvo Capitan Corvo 79 Se la volete 79 costa E sotto Buzz E infine Carl Un'altra che non avevamo Mamma mia Guardate quante sono La mia voglia di metterle dentro lo schedario Poi eh Ma ce ne sono ancora tantissime qua dentro Raga Se è pieno È pieno È pieno di pacchettini Vediamo un po' Un'altra cartazione Con Corvo Spike E Colt Che sono in sala giochi Che stanno giocando in sala giochi Ce n'era solo una storta eh Attenzione Possiamo migliorare Spike Che è felice Bell Una delle mie preferite Lola doppia Mi sa raga E poi Shelly Non ce l'avevamo Shelly Tanta roba Bellissima È la 105 su 162 Voglio trovare la 162 Quale sarà? Quale sarà mai la 162? Uè 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 Questa è bella Carta azione di Max È Max questo Sì Bella No Con Godzilla Il Robo Godzilla Ve lo ricordavate? Bellissimo Bellissimo raga Ok Quindi Carta azione Frank Che non l'avevamo ancora trovato No Mr.P No Pengula No Il conte Pengula Il conte Mr.P 79 Ok Bella Carta azione di Halloween Che a breve Halloween effettivamente È stato Squeak Bellissimo Squeak così Continuiamo a spacchettare Non abbiamo finito Ho già visto un'azione che non abbiamo Ho già visto Tutte dritte Non è vero Non è vero Tutte dritte Ma cosa Ma cosa Allora Bo Bellissime Ci rimangono 3 6 6 pacchettini 6 pacchettini freschi Un'altra carta azione raga Di Bo Che ha lanciato la freccia Dai queste sono tutte dritte No Oh Sono in un pacchettino tutte dritte Allora Creatori di carte di Brawl Stars Avete capito come migliorare la prossima volta Quindi Groom Robo Spike Bellissimo 149 Soldi 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 Jeanette E Bea Bea Brilluccicosa Molto bene Molto bene Continuiamo perché mancano veramente Pochissimi pacchetti Vediamo Tutte stor Tutte stor Mamma mia che disastro eh Quindi un Brock Ma senza lanciarazzi Nani Bello Questa mi sa che è la più bella La carta azione più bella di tutte Con il primo Ovviamente Abbiamo Rosa E abbiamo Tara Bella Brilluccicosa Allora Le carte nello schedario raga Le metto magari quando apro l'altro Perché adesso non mi conviene Anche perché non ho voglia Devo andare via È troppo tardi Abbiamo Un Frank Che ascolta la musica Un Fang Un Carl Abbiamo un Piper E abbiamo Brock Questa volta con lanza missili Giustamente eh Bello Ho già visto Una schi Tutto al contrario Mamma mia Buzz Direttore 149 raga Follia Griff Mr. P Shelley No vabbè Semino No ma perché In inglese Sprout Semino Semino raga Semino Semino se l'abbiamo Mamma mia È passato già tantissimo Da quando Semino È arrivato per la prima volta Su Brawl Stars Mamma mia Allora Colt Bella Corvo che si guarda in zero Spike comunque è sempre il simpaticone Tick Il primo Tick che troviamo raga Anche il primo Dan Mike E Nita Top No ma io Scusa Io però voglio Tick Super brillante Raga Ultimo Pacchettino Ultimo pacchettino raga Ultimissimo Speriamo di trovare L'incredibile Kong Source Bellissimo 79 Invece 79 Ma perché skin 79 Vabbè skin Ok Jackie Abbiamo Mick Crow Il corvo È sotto raga Abbiamo Jesse Non mi ricordo se l'avevo già trovata Ma mi sa di no Raga Ho aperto 20 pacchettini Wow 20 pacchettini E abbiamo trovato il mondo Pochissime doppie Quindi mi raccomando Se il video vi è piaciuto Un bel mi piace Che nel prossimo Mi apro un altro box Per completare Tutto l'album Di Brawl Stars Da me è tutto Un super basso E ci vediamo Ciao